A San Pietro Altanagro gli amministratori comunali hanno fatto carte false per ridursi la Tarsu. La denuncia è dell'onorevole Edmondo Cirielli ed è contenuta nell'interrogazione parlamentare che ha indirizzato al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Per il deputato di Fratelli d'Italia, nel piccolo comune valdianese, è stato compiuto un notevole danno all'erario per questa ragione e ha chiesto al Governo un'ispezione da parte della Ragioneria Generale di Stato. Nell'interrogazione descrive i fatti che si sarebbero consumati nel 2012. Secondo quanto accertato da Cirielli, sarebbe stata fatta una variazione senza seguire l'iter procedurale previsto dalle norme in materia. Variazione, spiega il deputato, che ha agevolato numerosi cittadini, molti dei quali amministratori comunali o loro familiari, proprietari di immobili della categoria B, a fronte di una minore introito nelle casse comunali pari a 19.000 euro. Cirielli fa riferimento alle tariffe della tassa dei rifiuti solidi urbani, applicate quattro anni fa per i magazzini senza vendita diretta. Nel 2008, per questo tipo di categoria, viene precisato nell'interrogazione parlamentare, l'Aggiunta fissò la tariffa a 2,50 euro al metro quadro. Nel 2013 fu ridotta a 80 centesimi. Nel 2012, inspiegabilmente, sottolinea Cirielli, i proprietari di magazzini, per lo più consiglieri comunali o loro parenti, hanno versato 80 centesimi. La cosa grave, aggiunge, è che non c'è un atto amministrativo che giustifichi la tariffa di 80 centesimi applicata nel 2012. Il parlamentare salernitano spera che il ministro invii a San Pietro Altanagro i suoi ispettori per verificare esattamente cosa è realmente accaduto.